Gentili telespettatori, buona giornata. Da quando Giorgia Meloni è stata nominata presidente dei conservatori in Europa, uno di un grande partito di destra, solo che in Europa, negli Stati Uniti, non si chiama destra come in Italia, ma si chiamano conservatori. Il partito di Giorgia Meloni in Italia è un partito conservatore, non di destra, conservatore. Bisogna uscire da questo incasellamento destra-sinistra, centrodestra-centrosinistra, conservatori. Da quando Giorgia Meloni viene nominata alla guida di questo grande partito, anche Matteo Salvini gli è venuto in mente di diventare un capo, il capo di un partito, ovviamente di area destra, di area di quel tipo lì, conservatrice, area conservatrice in Europa. Allora aveva cercato di fare, non so a che punto è, un partito con alcuni paesi sovranisti in Europa, dove ovviamente con Orban e con un altro, dove ovviamente lui sarebbe poi diventato il capo di questo partito, per avere anche lui, come Giorgia Meloni, la guida di un partito europeo. Forse non è andato in porto, forse si è arenato, forse non lo convince. E così Salvini oggi propone un gruppo unico del centrodestra in Europa per contrastare la sinistra a Bruxelles. arriva il no di Forse Italia, dice il PPE non può fare accordi con i sovranisti, gelo da parte di Fratelli d'Italia. Sapete che Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni è a capo dei conservatori, a Giorgia Meloni non interessa fare una coalizione in Europa stile Italia, non interessa condividere la guida del suo partito con altri o... ecco. E così il leader della Lega partecipa in Portogallo a una manifestazione dei sovranisti. L'obiettivo è mettere fine al dominio della sinistra nell'Europarlamento. Occhiuto di Forse Italia e vicino Italia siamo già abbastanza... già abbastanza uniti. così unire i tre gruppi di centrodestra europei, ID, ECR e PPE, per contare di più a Bruxelles. Matteo Salvini lancia dal Portogallo il suo progetto di assalto al fronte popolare e socialista che governa l'Europa. Così il leader della Lega partecipa a Cascais, a Project for Another Europe, manifestazione di identità e democrazia. L'Eurogruppo, formato dalla Lega con Marine Le Pen e l'alternative Für Deutschland, dialoga in videoconferenza con il presidente del partito di ultradestra belga, Vlams Belang, Gerolf Annemans e con il conservatore Martin Helm. Nel pomeriggio poi partecipa a Coimbra al congresso di Cegà, in italiano sarebbe Bastà, non lo so, e incontrerà Andrea Venuta, astro nascente della destra lusitana. Intanto da Forza Italia arriva un no. Dice in Italia il centrodestra è unito, ma tutto ciò non può essere trasportato in Unione Europea. Per il PPE è impossibile fare un accordo con ID. Non possiamo rinunciare alla nostra identità, dice il vicepresidente del PPE, Antonio Tajani. Salvini fa parte del governo Draghi e ha fatto una scelta europeista. Altri no. AFD e le penne, che sono alternativi culturalmente a noi, sono anti-europeisti. L'accordo vincente contro la sinistra è quello che portò alla mia elezione a presidente del PPE, tra PPE, conservatori e liberali. Quindi alla fine Tajani è vicepresidente del PPE, Giorgia Meloni è presidente dei conservatori, e Salvini dice, e io che faccio? Non sono né presidente né vicepresidente. Facciamo qualcosa insieme dove magari guido io questa coalizione. Quindi arriva il no da Forza Italia, da Tajani, che è il portavoce di Berlusconi, ma probabilmente assumerà sempre più forza Tajani. Anche da Fratelli d'Italia Gero. Il capodelegazione al Parlamento dell'Unione Europea, Carlo Fidanza, afferma, da presidente dei conservatori europei, Giorgia Meloni è impegnata ogni giorno per allargare la famiglia di ECR, a chi condivide i nostri valori. A cominciare da chi tra i popolari è stufo della sua subalternità del PPE alle sinistre, e da chi alla destra di ECR vuole superare un certo velleitarismo anti-europeo per costruire destre di governo alleabili con il centro, in una prospettiva bipolare come quella che abbiamo in Italia. E' un processo articolato che non si fa con le formule matematiche, ma con tanto dialogo e tanta politica. Quindi Giorgia Meloni fa sapere tramite i suoi uomini che se Salvini vuol far qualcosa può aderire ai conservatori europei perché non si fanno accordi con i numeri, numeri di qua, numeri di là, ma dice ci vuole tanto dialogo, tanta politica per fare e per prospettare un sistema bipolare come quello che c'è in Italia, dove da questa parte del polo c'è Giorgia Meloni a capo dei conservatori. Questo è il momento in cui dobbiamo lavorare per mettere insieme il meglio dei tre gruppi alternativi alle sinistre, per essere determinanti e per diventare il primo gruppo all'interno del Parlamento europeo, dice Salvini nel suo intervento. I numeri ci dicono che se volessimo e se ciascuno rinunciasse una bandierina nel nome della crescita comune, già da domani potremmo essere il secondo eurogruppo a Bruxelles, ha spiegato il leader leghista. Il fatto è che Giorgia Meloni non abdica, oppure non pone il suo partito in Europa, i conservatori per fare una grande coalizione. Lei dice la faremo in un futuro dove, come in Italia, il primo partito poi è quello che decide e comanda. Secondo Salvini l'Europa non è l'Unione europea, non è l'euro e milioni di cittadini europei. Sa benissimo che la compagnia non è annoverabile fra i moderati e contrasta con il progetto di Giancarlo Giorgetti di un approdo leghista nel campo del Partito Popolare europeo. I media, dice, ci tratteranno come un incontro di estremisti, ma noi qui stiamo seminando. Possiamo essere il primo partito con almeno 130 parlamentari e penso che sia importante, ha ribadito, ma, come vi dicevo prima, arriva comunque il no di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Grazie a tutti quanti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti.